Italia campione d'Europa, Abruzzo in festa, caroselli e piazze affollate, febbre azzurra, bandiere, cori e fumogeni ovunque, a mano pello, serata speciale per la famiglia Verratti. Coronavirus, giornata senza contagi in regione, i guariti sono 12, invariato il numero dei ricoveri, non si registrano vittime, un dato che fa ben sperare per le prossime settimane. Approfitta dell'ora d'aria ed evade dal carcere, marocchino in fuga dal San Donato di Pescara, l'uomo ha scavalcato due recinzioni e ha fatto perdere le sue tracce, forse dell'ordine in azione. Incidenti stradali, quattro giovani in ospedale, doppio scontro nella notte in Val Vibrata, due ragazze in bici sono state investite a un incrocio. Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro Tg Abruzzo, notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV. In primo piano ovviamente il successo agli europei per quanto riguarda la nazionale italiana, allenata da Roberto Mancini, ieri caroselli ovunque in Abruzzo, all'interno delle città, anche lungo la costa, insomma tutti hanno voluto celebrare un traguardo molto prestigioso raggiunto dalla nazionale italiana di calcio. Allora andiamo a sentire il servizio di Affreddo Giovannozzi. La serata degli italiani e dunque anche degli abruzzesi era cominciata così. In telecronica diretta da Wembley, Inghilterra Italia, valevole per la qualificazione della Copa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Fortunatamente poi non è finita in maniera fantoziana, ma così. Insomma la nazionale di Mancini ha riacceso i cuori e dopo la premiazione si è scatenata la festa per le strade delle città di tutta la regione. A Pescara, Teramo, Chieti e L'Aquila, soprattutto sulla costa, la gioia degli abruzzesi è stata incontenibile. Caroselli di auto con bandiere al vento ovunque. Dopo un anno e mezzo di sofferenza, dopo un anno e mezzo in cui il dolore, la paura e il lockdown hanno condizionato la vita di tutti, era inevitabile che fosse il calcio, la nazionale in questo caso, a liberare gli sfoghi repressi per tanto tempo. Gli italiani cantavano l'inno dai balconi solo poco più di un anno fa, quando non si poteva uscire, quando tutti erano costretti a casa, quando il calcio era fermo. In questo europeo, che ha visto la sua nascita per gli azzurri all'Olimpico di Roma e la sua apoteosi a Wembley, l'Italia ha ritrovato la sua unità. Siamo tornati a cantare l'inno nelle case, nei locali, sui balconi, ma con la consapevolezza e anche l'incoscienza che il peggio era alle spalle. Ma forse così ancora non è definitivamente. L'Italia aveva voglia di festeggiare con il presidente Mattarella che finalmente abbiamo visto sorridente e festoso. L'Abruzzo ha dato anche in campo un contributo fondamentale. Vedere Verratti alzare la coppa è stata una soddisfazione per tutti, simbolo di un Pescara che fu bello e vincente. Niente come il calcio sa restituire l'orgoglio a una nazione, a una regione e soprattutto la voglia di festeggiare agli italiani. Siamo campioni d'Europa e poi il resto si vedrà. Per una notte il Covid è stato solo un brutto ricordo. E quella di ieri è stata una serata particolare per gli abitanti di Manopello, il paese che si trova in provincia di Pescara nel quale è nato Marco Verratti, il centrocampista azzurro grande protagonista ieri sera della finale di Euro 2020. E il nostro Sergio Cinquino ha seguito la partita proprio insieme agli abitanti di Manopello e insieme a un tifoso particolare, ovvero il papà proprio di Marco Verratti. È un paese in festa, Manopello, patria di Marco Verratti dopo la notte magica che ha regalato emozioni a non finire, sogni, speranze e un pizzico di paura che puntualmente all'ultimo miracolo di Donna Rumma si è trasformata in gioia sfrenata. Siamo andati a viverla con loro questa notte indimenticabile in piazza fatta di suoni, immagini, emozioni, testimonianze con i cittadini che Marco, anche se non era presente fisicamente, lo tengono sempre con loro, con il sindaco e soprattutto con il papà di Marco Fabrizio che questa notte la rivivrà probabilmente migliaia di volte e ogni volta gli sembrerà più bella. Marco, l'abbiamo visto, Marco, com'è? Emozionato? Tanto, santo. Più il padre o più il figlio? Più il padre che il figlio. Parenzi, Italia, 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 sedessa, federmo, disciplinò, e città la testa, com'è la vittoria, ricordata. Intanto Barella va su Reis, Verratti su Filipps, mi sembra adesso Verratti spostato più sulla destra e Barella sulla sinistra, adesso magari andiamo a rivedere, ma stiamo batte, una grande vittoria, una grande vittoria, troviamo le parole, troviamo le parole per commentare, questa vittoria, una grande vittoria, a chi la dedichiamo questa vittoria? Ai miei bambini, Marco è stato decisivo in occasione dell'azione che poi ha portato al pareggio, Sindaco, Sindaco, è un qualcosa di straordinario, fino all'ultimo non si credeva se avevamo già vinto, grandioso, grazie, grazie all'Italia, Un saluto a Marco Verratti, lo facciamo? De Marco, siamo grandissimi! A Marco, cosa gli diciamo? Non è un manuppello! Cosa gli diciamo a Marco, dal papà? C'è un grande... Cambiamo argomento, passiamo all'emergenza Covid, numeri estremamente positivi in Abruzzo oggi per quello che riguarda i contagi, non ci sono infatti nuovi casi positivi, neppure vittime, questo significa che almeno fino a due giorni fa la situazione è stata estremamente positiva, invariato il dato riferito ai ricoveri ospedalieri, sia nelle terapie intensive che in quelle non intensive, mentre i guariti sono 12. Nonostante la variante indiana, o delta che dir si voglia, nonostante gli assembramenti, nonostante le serate sulla costa, nonostante gli europei di calcio, nonostante l'Abruzzo sia una delle regioni che negli ultimi giorni era stata classificata a medio-basso rischio, con qualcuno che già vedeva il ritorno dei fantasmi in zona gialla e lo agitava come uno spauracchio, i numeri, che sono quelli che non sbagliano mai, fanno tirare oggi un sospiro di sollievo. Non sappiamo se resisteranno anche nei prossimi giorni, ma lo zero contagi che si registra oggi, che sia riferito a ieri oppure a sabato, è un dato che non va sottovalutato. Insomma, un bel modo di iniziare la settimana, soprattutto alla luce del fatto che i tamponi molecolari esaminati sono stati 473 e il totale, compresi test antigenici, sono stati 801, per una percentuale ovviamente pari allo 0%. Non bastasse questo, ci si deve aggiungere anche che non si sono registrati nuovi decessi e così il numero di coloro che hanno perso la vita a causa del Covid in Abruzzo resta fermo a quota 2.512. Un dato varia e riguarda il numero dei pazienti positivi registrati in provincia di L'Aquila dall'inizio della pandemia, dove c'è un più 9, frutto di un riallineamento dei numeri. Invariato anche il dato riferito a ricoveri nelle strutture ospedaliere e regionali, restano infatti 29 i pazienti che si trovano nelle terapie non intensive, mentre resta sempre 1 il letto occupato nelle terapie intensive, che proprio non vogliono svuotarsi. Diminuiscono di 12 unità e diventano 912 coloro che si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'Asle di competenza. Aumentano, di poco, ma aumentano, i guariti, che sono 12 in più rispetto a ieri. Questo fa sì che anche gli attualmente positivi in circolazione in Regione siano diminuiti della stessa quantità, 12 appunto, per un valore totale di 942 persone che attualmente risultano positivi al Covid. È un marocchino di 21 anni, levato dal carcere di Pescara, che ieri ha approfittato dell'ora d'aria saltando due recinzioni e dileguandosi nella zona di San Donato. Sulle sue tracce le forze dell'ordine che lo cercano dappertutto. Sargio Cinquino. Approfittato dell'uscita giornaliera all'aria aperta e del clima di festa europea e il 21enne marocchino, fuggito ieri pomeriggio dal carcere San Donato, saltando la doppia recinzione e dandosi alla macchia, si è reso irreperibile. Salah Boucail, arrivato in città da Roma dove è stato sottoposto a fermo il mese scorso, arrestato dai poliziotti Capitolini per una rapina commessa insieme con altri nella zona della stazione Termini, adesso è in fuga. Immediate le ricerche anche con elicotteri del reparto volo che hanno sorvolato la zona del quartiere San Donato e anche il centro prima e dopo la partita, ma del detenuto non c'era traccia. All'opera anche le volanti e parte del sistema di prevenzione allertato per la gara Italia-Inghilterra. Non è la prima volta che un detenuto riesce ad evadere dall'istituto di pena pescarese e già lo scorso anno, il 10 agosto, un detenuto riuscì a fuggire facendo perdere le proprie tracce per quattro ore prima di essere rintracciato e arrestato dagli uomini della volante davanti alla sua abitazione a Pescara. L'episodio si è ripetuto ed è stato stigmatizzato da Giuseppe Merola, coordinatore regionale FP CGL Abruzzo Molise, giustizia che punta il dito contro la situazione e ha denunciato gravi carenze strutturali e scarsi sistemi di sicurezza alla casa circondariale di Pescara, nonché la cronica carenza di personale con 40 poliziotti penitenziari. È di quattro feriti il bilancio dei due distinti incidenti stradali avvenuti la scorsa notte ad Alba Adriatica e Sant'Egidio. Nel primo caso due ragazze in bicicletta sono state investite ad un incrocio, nel secondo invece a finire in ospedale sono stati due adolescenti a bordo di uno scooter centrato da una vettura mentre percorrevano la strada provinciale fra Villa Lempa e Sant'Egidio alla Vibrata. Alex De Palo. È di quattro giovani feriti il bilancio di due distinti incidenti avvenuti nella notte ad Alba Adriatica e fra Civitella del Tronto e Sant'Egidio alla Vibrata. Nel primo caso, intorno alle 3.30, due ragazze sono state investite mentre erano in bicicletta in via Nazario Sauro, all'incrocio semaforico. Una è stata trasferita direttamente all'ospedale Mazzini di Teramo ed è stata intubata. Si trova in osservazione, in rianimazione, mentre la seconda è stata trasferita all'ospedale di Giulianova per un trauma toracico. Gli esami radiografici hanno evidenziato la frattura di quattro costole, oltre a un trauma cranico. Questa mattina è stata trasferita poi al Mazzini di Teramo. Sempre nella notte, due minorenni, entrambi di 15 anni, di Sant'Egidio alla Vibrata, sono finiti in ospedale dopo essere stati centrati da una lancia Ypsilon condotta da un 23enne, sempre di Sant'Egidio alla Vibrata. Era circa mezzanotte. I due adolescenti in sella ad uno scarabeo 50 stavano percorrendo la strada provinciale 2 che collega Villa Lempa di Civitella del Tronto con Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata quando sono stati investiti dall'automobilista che ha i test e risultato negativo ad alcol e droga. Il conducente dello scooter è stato disarcionato ed ha riportato ferite che i medici dell'ospedale di Sant'Omero hanno giudicato guaribili in 30 giorni, mentre il passeggero in progno si è riservato a Teramo per politrauma. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alba Adriatica che si stanno occupando dei rilievi. L'impatto ad avere la peggio è stato il passeggero che sedeva dietro il conducente per via dello scontro diretto con la vettura che sopraggiungeva dietro. Si va delineando il quadro degli schieramenti in vista delle elezioni amministrative a Roseto degli Abruzzi al momento sono quattro i candidati alla carica di sindaco presto potrebbe arrivare anche un quinto nome in alto mare invece da definire la situazione in casa del Partito Democratico. Lino Nazionale Quattro candidati certi e un quinto potrebbe essere annunciato entro la fine di luglio a Roseto si va via via definendo il quadro degli schieramenti che al momento vede quattro aspiranti sindaci ad annunciare per primo la propria candidatura è stato Mario Nunes di un vasto movimento civico che abbraccia ben sette liste di cui fanno parte anche due consiglieri comunali di opposizione Egno Pavone e Angelo Marcone quasi contemporaneamente Rosaria Ciancaione ha dato la sua piena disponibilità a scendere nuovamente in campo sostenuta da uno zoccolo duro della sinistra rosetana da buona parte di ambientalisti e dal Movimento 5 Stelle che questa volta dovrebbe riuscire a presentare una propria lista a differenza delle elezioni di cinque anni fa in quanto Beppe Grillo non diede il via libera all'utilizzo del simbolo c'è poi l'ex parlamentare Tommaso Ginobble referente regionale di Italia Viva ma che non utilizzerà con ogni probabilità il simbolo del partito di Renzi perché come per Nunes anche Ginobble punta molto sul civismo quattro saranno le liste in appoggio più una probabile quinta non appena il leader del Movimento Il Punto Alessandro Recchiuti scioglierà ogni dubbio su come e soprattutto con chi presentarsi alla competizione elettorale di ottobre all'interno del Movimento ci sarebbero coloro i quali spingerebbero per una corsa solitaria chiedendo allo stesso Recchiuti di candidarsi ma si correrebbe il rischio di un massacro il centrodestra alla fine ha annunciato la candidatura dello storico rosetano William Di Marco docente dell'Istituto Moretti nei prossimi giorni il professor Di Marco incontrerà i giornalisti per presentarsi e annunciare anche alcune idee che saranno sviluppate nel programma e il Partito Democratico appare in grande difficoltà resta l'ipotesi della candidatura del sindaco uscente Sabatino Di Girolamo mentre sembra tramontata ogni ipotesi di un possibile accordo con Nugnes a Teramo la situazione del vecchio stadio comunale in pieno centro cittadino non è soltanto vergognosa ma anche pericolosa all'interno della struttura infatti oltre all'erba alta e all'incuria domina il degrado e spesso ci sono anche dei vandali che ne approfittano per fare ulteriori danni il servizio di Alfredo Giovannozzi e Giancarlo Falconi che cos'è il vilipendio? il vilipendio è un reato previsto dal codice penale nel quale si nega il valore delle istituzioni esiste il vilipendio alla bandiera il vilipendio al capo dello Stato ma anche il vilipendio di una religione a volte il calcio può essere una religione e il vilipendio è quello che sta facendo in questo momento questa amministrazione comunale ma anche l'altra perché anche l'altra è colpevole di quello che è stato il tempio dello sport cittadino terramano il sacro stadio comunale guardate in che condizioni è ridotto questo è lo stadio comunale nel centro della città che cosa è diventato? un pericolo pubblico il perché? ce lo spiega Giancarlo Falconi come nelle migliori tradizioni delle telecronache di calcio qui la situazione è fantoziana perché non vediamo nemmeno la porta se dovesse qualcuno fare gol dovremmo chiedere chi ha fatto gol o chi ha fatto palo come faceva Fantozzi sul prato andiamo a bordo campo da Giancarlo Falconi al quale diamo la linea per vedere qual è la situazione in mezzo al terreno di gioco quello che resta quello che fu il terreno di gioco e magari vedere se lui riesce a scoprire qualcos'altro a te la linea Giancarlo Alfredo grazie per la linea qui a terra c'è anche la famosa rosa il giornale di noi sportivi siamo al novantesimo minuto di un campionato che abbiamo perso abbiamo perso non solo la prima giornata ma in tutte quelle giornate in cui le amministrazioni comunali non sono riuscite a dare una visione urbanistica a questo storico campo sportivo 1925 la prima pietra ve lo ricordo qui adesso è tutto devastato c'è il pericolo dell'erba alta e l'erba secca abbiamo la scuola San Giuseppe abbiamo il quartiere di Porta Romana abbiamo un'arteria fondamentale per Teramo come circonvalazione Spalato abbiamo la tribuna che ha già subito un incendio pericolosissimo e per fortuna che a 200 metri lina d'aria ci sono i vigili del fuoco del comune della provincia di Teramo che dire ancora non c'è manutenzione non c'è cura non c'è sicurezza l'amministrazione comunale del buon sindaco d'Alberto e sicuramente ovviamente l'assessore alle manutenzioni Baldo di Buonaventura dovrebbero venire qui sul posto e tentare di calciare l'ultimo calcio di rigore dopo Piazza Dalmazia il comune di Giulianova punta alla trasformazione anche di Corso Nazario Sauro si pensa a un nuovo progetto per la pedonalizzazione con accessi controllati anche per il tratto iniziale di Viale Orsini con il chiaro intento di creare un vero e proprio salotto a Lido è stato previsto per tale progetto un investimento complessivo di 600 mila euro Lino Nazionale Punta molto sulle opere pubbliche il sindaco di Giulianova Ivan Costantini dopo aver inaugurato una settimana fa la nuova Piazza Dalmazia ora punta a riqualificare del tutto il Lido Giuliese con un progetto che prevede la pedonalizzazione di Corso Sauro di un tratto di Viale Orsini la valorizzazione di Piazza Fosse Ardeatine un investimento da 600 mila euro ma si guarda anche alla nuova pista ciclabile sul lungomare Dal primo di ottobre si parte con la Back to Cost che è molto bella con degli arredi urbani veramente significativi e poi si parte subito con un progetto di riqualificazione di Viale Nazario Sauro Piazza Fosse Ardeatine è il primo tratto di Viale Orsini l'intento di questa amministrazione è mettere tutto sul livello con dei divisasori a scomparsa con i famosi panettoni che vediamo nelle grandi città in modo tale da non chiudere in maniera perenne la parte centrale del Lido ma di tenerla aperta e quando abbiamo la necessità farla diventare una grande piazza e quindi mettere tutto sul livello come accade in tante realtà le mitra in tante città come Pescaro San Benedetto è chiaro che l'obiettivo è quello di creare appunto il salotto del Lido Giuliese e in quest'ottica come si inserisce anche il recupero del Palazzo Cursal ah beh noi lì a Palazzo Cursal inizieremo il buono sfacciata penso entro fine dell'anno quindi stiamo lavorando anche in quella direzione abbiamo tantissimi progetti per il cuore del Lido ma non ci fermiamo neanche qui a Giornano Paese dove appunto oggi sono stati installati degli importanti dissuasori d'entrata e di uscita del centro storico ricordiamo che abbiamo pavimentato tutto il corso che era ribattezzato il corso musicale ricordo anche degli interventi importanti non solo in Piazza Bozzi che è diventato un fiore all'occhiello dell'intera provincia ma anche sulla De Amicis appena ci siamo insediati abbiamo rifatto la facciata e stiamo continuando una serie di lavori anche importanti all'interno del centro storico quindi si lavora non ci fermiamo non sarà il risultato della piazza ad appagarci c'è ancora tanto da fare Passiamo allo sport il Teramo per sostituire Massimo Paci stringe per Federico Guidi intanto Piacentini è un passo dal Pisa e Santoro potrebbe trasferirsi al Pordenone Giusy Cingoli come oramai noto il presidente Franco Iachini sta lavorando da settimane sull'allargamento cessione della società entro questa settimana se non ci saranno novità sostanziali dal punto di vista societario con l'ingresso di nuovi soci del nord Italia le cui trattative vanno avanti da mesi il massimo dirigente Biancorosso dare il via alla programmazione tecnica perché il 26 luglio la squadra si radunerà al Bonolis per iniziare il ritiro precampionato al raduno saranno presenti in teoria 15 giocatori scadenza tra il 2022 e il 2023 Valentini Soprano Arrigoni Mungo Santoro Viero Birligea Cappa Minelli Piacentini Megire Diachite Trasciani Belluccio Cianci e almeno 4 ragazzi dalla primavera 3 alcuni di questi atleti sono al centro di interessi di mercato e potrebbero andare via sulla panchina del diavolo è sempre più vicino Federico Guidi 45 anni ex casertana è lui il maggior candidato a raccogliere l'eredità di Paci Guidi vuole il teramo ha messo da parte tutte le altre possibilità e attende i segnali dal presidente Franco Iachini un tecnico valido esperienza in Lega Pro con Gubbio e casertana e proprio con quest'ultima centrato qualche anno fa ai playoff Guidi ha dato la massima disponibilità calcolando che tra qualche giorno potrebbe svincolarsi proprio dalla casertana e accettare così l'opportunità che gli offre il diavolo il futuro del DS Sandoro Federico resta appeso a un filo e ai nuovi equilibri societari Federico potrebbe continuare la sua esperienza in bianco rosso e dare così seguito al buon lavoro svolto in questi anni per completare lo staff tecnico Guidi porterebbe in Abruzzo il suo vice Andrea Cupi e il preparatore atletico Domenico Melino sul mercato Matteo Piacentini a un passo dal Pisa il club toscano ha quasi trovato l'accordo con il giocatore e adesso serve quello con il Teramo il mediano Simone Santoro potrebbe sbarcare a Pordenone dove è stato richiesto dall'ex Paci era l'ultima notizia non ci sono ulteriori aggiornamenti per questa edizione è tutto io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento con le trasmissioni di Vera TV grazie a tutti